Chiama, chiama, chiama Vai, gli sto facendo il sedere Colpito Bravi scappate D'accordo, qui Affrontiamo Scar Vi dobbiamo far venire i soci Verdi Ok Questo è un passo piuttosto per... Buono Vinci Vai, vai, prendi questo Colpito Un quarto Lo scappi Vai 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 Oh cavolo Vabbè Tutti quei colpi Non mi ha mai... D'accordo Mi sta facendo venire il mal di testa Siamo ancora Lo colpisco soltanto con questo Vai 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 Oh cavolo Sto... Sto... Li stanno uscendo dei tuoi Parliamole Oh cavolo Oh cavolo Ah Parliamole Parliamole No Questa volta ho sprecato Rafforzare Non No 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 Die, die pesco se tosto amico oh my god Alla moda il tappunile Quindi Beccato Maldizzo Parata Facciamo presto Parata Oh Michael Stavo morendo però Fai su Vai 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 Sei morto Ok Saltiamo Metto Fire Bene Salviamo E quindi Finisce un altro livello di Kindle Heart S2 Bene Inizia un altro livello di Heart Potter all'ordine La felice Mi va bene qualsiasi cosa Aspetta Ah ecco Ciao Harry Non vedo l'ora che inizi la lezione Faremo qualcosa di esaltante Io no Eh Sì Faremo saltare in aria qualcosa O trasformeremo qualcuno in un furetto Qual era quell'incantesimo che ti bloccava impedendoti di muoverti Petrificus totalus Ok D'accordo Un cantesimo semplice ma molto utile Per paralizzare un avversario devi puntare la bacchetta contro di lui e muoverla come faccio io Dai Petrificus Secchiona Petrificus Fai attenzione Ma a me non me ne frega niente Ma già ha petrificato Wow Harry sei l'insegnante migliore che esista Grazie Ora insegniamolo agli altri Ok Aspetta Ah sì però conosci Conosciamo So fare incendio Quindi posso fare una messa Aaaaaah Dai su Quinto piano Dai corri Henry Che ti fa bene Alla salute Bene dai Stai ancora cercando i gargoi? No Continua così Vai Larry Ecco Susan Dovremmo dirti della stanza delle necessità Ah ne ho trovato un'altra Pensi di essere speciale solo perchè tua zia lavora al ministero eh? Mio padre dice che tua zia è una che crea soltanto problemi Qualcuno le darà una lezione Qualcuno le Va bene gli spacchiamo la faccia ho capito Hai cinque secondi per smammare Uno Due Tre Quattro Cinque Tempo scaduto Ora preparatevi Preparatevi a suonarle Ora muore Ora le prenderete di brutto Aspetta come che si Oh no mi sono dimenticato gli incantesimi Eh ragazzi Eh ragazzi Time out Ah ok Lo sono raccordato Petrifico tos Ti voglio petrificare No voglio petrificare No voglio petrificarlo quello Vabbè fa niente Ammazziamo le buonanotte Grazie Grazie Sei stato grande Non ci pensare Tu avresti fatto lo stesso per noi Vorrei essere brava come te Ma non puoi Qui ti smamba Si terrà al settimo piano Perfetto Ok abbiamo trovato un altro Una tipa Ok 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 Ok